Ben ritrovati gentili telespettatori per questa nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia edizione che iniziamo con un servizio che arriva da Trieste e ci avviciniamo a quelle che sono le festività natalizie e a Trieste si parla di chiusure festive dei negozi. La regione le rimette in discussione. Vediamo. La giunta regionale corre ripari sulle chiusure festive dei negozi con un emendamento alla legge sul commercio approvata dall'Aula ed è stata introdotta fino al momento dell'approvazione del regolamento la possibilità che l'esecutivo qualora diffuse esigenze organizzative dei comuni ne attestino l'opportunità disponga la sospensione dell'efficacia per tutte o parte delle giornate previste ossia il 25 e il 26 dicembre e il primo gennaio. Domani il collegio del Tar si riunirà per confermare la sospensione del provvedimento su 26 ricorsi già decretata dal presidente Umberto Zuballi ai quali si sono aggiunti altre due che verranno esaminati nella stessa giornata. Ci teniamo le mani libere in attesa della sentenza ha spiegato Bolzonello per prendere qualsiasi tipo di decisione. Non vogliamo che si creino situazioni di disparità. La giunta potrà dunque decidere senza tornare in aula di sospendere o meno la norma fino al verletto definitivo della Corte Costituzionale sull'intera partita previsto ad aprile. A tradirlo era stata una buccia di banana grazie alla quale gli investigatori erano riusciti a risalire alla sua identità e a contestargli in concorso con un connazionale ben 26 furti in abitazioni messi a segno fra Caneva ed Aviano. Ieri mattina il giudice Rodolfo Piccin ha condannato Adrian Luzzo, 25enne Moldavo, a 6 anni e 10 mesi di reclusione. Una pena addirittura più pesante di quella che aveva chiesto il pubblico ministero Monica Carraturo. 5 anni e 6 mesi. Una condanna esemplare per un reato fra i più frequenti e temuti. Ma Luzzo, che deve scontare anche una condanna di 3 anni inflitta dal Tribunale di Vicenza senza continuazione, è irreperibile dopo essere evaso dai arresti domiciliari ai quali era sottoposto a Novate milanese. Il Moldavo era riuscito a danneggiare il braggialetto elettronico con il quale era sottoposto a sorveglianza 24 ore su 24 e così è scappato. Adesso andiamo a Gorizia, un'intervista a Doretti il quale dice la città è sulla soia del collasso. Parliamo di accoglienza. In questi due anni e mezzo di emergenza e migrazione la Prefettura è sempre stata disponibile per cercare di arginare i continui afflussi di migranti. Questo oltre ad essere un dato positivo testimonia la vicinanza di una istituzione fondamentale come la Prefettura che rappresenta lo Stato sul territorio. A dirlo è Fabrizio Oretti, capogruppo e consiglio comunale della lista civica per Gorizia, segretario provinciale di autonomia responsabile del Friuli Venezia Giulia. Ad oggi dei 25 comuni della provincia di Gorizia soltanto 8 ospitano migranti e di questi soltanto due, Gorizia e Gradisca, hanno presenze consistenti che non stentano a diminuire, anzi ho apprezzato, evidenzia Oretti, anche l'ultimo tentativo che ha effettuato il prefetto Alberti nell'organizzare un incontro per sensibilizzare i 17 comuni della provincia che non accolgono nessuno. Nonostante i tanti appelli e l'incontro con le amministrazioni reticenti, l'esito negativo purtroppo era scontato, per tatto tutto resta come è stato finora. Ancora una volta Gorizia resta con il cerino in mano, perché sarà costretta ad ospitare numeri spropositati di migranti. Basterà qualche arrivo in più per rivedere i migranti dormire per la strada o sull'isolzo. Questa emergenza bella e buona, per evitare di dover sempre correre ai ripari, è il caso di considerare la situazione come realmente è, di collasso. Una considerazione del merito sembra doverosa, stigmatizza Oreti. Il prefetto può obbligare un comune ad ospitare migranti? La risposta è semplice, sì in caso di emergenza. In caso di reale emergenza la prefettura può quindi requisire strutture e obbligare i comuni ad accogliere, anche se non si dice esplicitamente, sottolinea Oreti, già da un bel pezzo è scattata la reale emergenza, perché ospitare 300 migranti in una piccola città come Gorizia non è accettabile. Per questo, dopo i continui solleciti andati a vuoto da parte della prefettura, resta solo una strada da intraprendere, vale dire obbligare i comuni ad accogliere, perché non è corretto, continuare a pretendere sacrifici esclusivamente da Gorizia e Gratisca. Il tutto per avviare la tanto sbandierata equa distribuzione dei migranti sul territorio. La speranza, termina Oreti, resta sempre la stessa, ed è data dal fatto che il governo cambi presto colore politico e si inizia a bloccare i continui afflussi che molto spesso interessano migranti di carattere economico. E dopo il presepe, il croce fisso e stavolta firmare idealmente l'iniziativa è il popolo della famiglia, una delle forze di governo cittadino che compone la maggioranza. Siamo a Cordenons, l'idea è insieme un monito e un invito che interessa e interesserà nei prossimi mesi tutti gli edifici pubblici, dagli uffici del comune alle aule dell'istituto comprensivo. Insomma, ogni edificio che, presenti al suo ingresso la bantiera tricolore, le dirette manazioni del settore pubblico, spiega Lanfranco Lincetto, leader del popolo della famiglia e vice sindaco, devono ospitare all'interno dei loro edifici il croce fisso e deve esserci in ogni stanza. L'iniziativa fa parte del filone inaugurato dall'amministrazione sul tema del presepe. Le tradizioni cattoliche, secondo il pensiero condiviso dalla maggioranza cittadina, devono essere tutelate e, se fosse il caso, riscoperte. Ecco perché la battaglia sul croce fisso inizierà con un primo monitoraggio. Si andrà infatti a verificare se il simbolo cristiano per eccellenza sia presente, ad esempio, in tutte le aule delle scuole cittadine. Adesso andiamo con il prossimo servizio a Udine, dove parliamo di una attività ininterrotta alla portata massima per 34 impianti idrovori. Vediamo di cosa si tratta. Sono stati giorni molto impegnativi, gli ultimi per il consorzio di bonifica pianura friulana che si era preparato alle intense precipitazioni, già l'alerta meteo emanato dalla protezione civile regionale. Per garantire il corretto funzionamento degli impianti idrovori a servizio delle zone urbane e agricole dei manufatti idraulici per la regimazione delle acque, l'ente ha attivato 20 dipendenti del personale reperibile H24 intervenuti nelle opere idrauliche in gestione da Gemora del Friuli fino a Grado, in provincia di Colizia. L'ente ha assicurato così la continuità del funzionamento degli impianti per lo smaltimento delle acque. Sono intervenuti alcuni blocchi degli importanti impianti automatici di sgrigliatura che per l'intensità delle precipitazioni hanno registrato eccezionali apporti di materiale. Un evento che ha richiesto l'intervento di tre schevatori meccanici oltre al personale operaio, l'intervento di protezioni termiche e differenziali dei quadri elettrici curato dal personale elettromeccanico. Le macchine hanno liberato alcuni manufatti di attraversamento che impedivano lo scolo delle acque. Per tutta la giornata di sabato e per alcune fino alle prime luci di domenica il personale si è anche alternato per assicurare il corretto funzionamento delle opere idrauliche. I dati rilevati dal sistema di telecontrollo ha registrato 12 ore di funzionamento in interrotta, alla massima a portata di tutti i 34 impianti idrovoli del comprensorio, che con la portata di 166 metri cubi al secondo ha raggiunto un volume totale di pompaggio di oltre 7 milioni di metri cubi d'acqua, superiore all'intera capacità del lago di Berzegnis. Sono intervenuti i due impianti a scolo alternato, la cintura secondaria per la difesa delle acque, dove in particolari condizioni i corsi d'acqua vengono laminati con un sollevamento meccanico di una parte della portata in un tratto intermedio per non caricare la parte di valle. Sono intervenuti poi gli scolmatori, manufatti idraulici destinati a laminare le acque in caso di piena protezione delle aree a valle. In particolare, solo sul canale scolmatore agli Amminicco di Palmanova è stata registrata una portata di 22 mili metri cubi al secondo per circa 10 ore, scaricando quasi 800 mila metri cubi d'acqua, evitando la tracimazione. È stato costantemente monitorato anche il livello del torrente Cormor in coordinamento con la sala operativa della protezione civile che, pur raggiungendo importanti valori di portata, non ha reso necessaria l'attivazione della cassa di espansione di Sant'Andrat del Cormor. E rimaniamo a Udine per segnalarvi l'ennesima truffa, la truffa online. Hanno messo in vendita proprio online, pubblicando un annuncio su un sito dedicato alla compravendita tra privati, una bella bicicletta da corsa e hanno richiesto la somma di 2.500 euro. Quella a due ruote è poi piaciuta ad un padovano che ha contattato il venditore e si è reso disponibile a raggiungere Udine per concludere l'affare. L'appuntamento era fissato per sabato 19 novembre in centro, ma non è andato proprio come l'acquirente sperava, nel senso che lui ha consegnato la somma patuita, appunto i 2.500 euro, ma del prezioso velocipide nemmeno l'ombra. È così che tre uomini, di edà compresa fra i 21 e i 30 anni, tutti di origine nomade e residenti nella zona di Tavagnacco sono finiti nei guai. Tutti e tre infatti sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri della locale stazione di Felletto Umberto per l'ipotesi di truffa in concorso. I militari infatti durante il weekend hanno raccolto la denuncia del malcapitato e hanno avviato un'attività d'indagine che in breve tempo ha portato all'identificazione dei tre presunti responsabili di quello che viene meglio conosciuto come un grande pacco. Bene gentili telespettatori, con quest'ultima notizia termina l'edizione del telegiornale regionale del Friuli Venezia Giulia. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale.